Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per sabato 26 giugno. Anticiccolone nordafricano in lenta ritirata da quasi tutta l'Italia e quindi conseguente attenuazione dell'ondata di caldo. Pochi fenomeni di rilievo isolanti, temporali, pomeridiani da calore sulle regioni alpine. Temperature in lieve calo ovunque di 2-3 gradi massime, intorno a 28-33 gradi sull'interno del centro nord, 33-37 sull'interno della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Temperature intorno a 30 gradi lungo le coste.